Nell'abbraccio del Padre Meditazione quotidiana per conoscere, amare e onorare Dio Padre Create a sua immagine e somiglianza Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò Questa semplice frase è di una profondità insondabile Perché risponde alla ricerca dell'uomo della sua vera identità Ed è allo stesso tempo una dichiarazione eterna dell'amore di Dio per noi uomini Quale migliore eredità potrebbe darci il Padre fin dalla nascita Se non quella di incidere se stesso nel nostra anima E plasmarci a sua immagine e somiglianza? Quando l'uomo intraprendere la ricerca di Dio Secondo il desiderio che egli stesso ha seminato nel suo cuore Non solo lo troverà nelle Sacre Scritture Nelle meraviglie della creazione Nelle sue opere nel corso della storia e alla luce della dottrina che ha affidata la sua Chiesa E scoprirà anche il Padre suo dentro di sé Perché egli abita in un'anima in stato di grazia Tutto ciò che l'uomo scopre di buono negli altri o in sé stesso viene da Dio Se sappiamo comprenderlo diventa un annuncio della sua presenza Perché nessuno è buono se non Dio solo La persona che si è aperta alla grazia di Dio Può ora cooperare affinché l'immagine di Dio si formi in lei In questo modo la sua vera dignità e bellezza viene alla luce E allora l'esortazione di Gesù diventa realtà Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste